Questa è la mafia, paura. 12 ragazzi vogliono provare a fare una cooperativa di agricoltura biologica su queste terre e chiedono aiuto. Ma io lo so che tu c'hai le crisi d'ansia e da questi ragazzi ci vai tu. Sei tu l'uomo dell'ora venuto a salvarci? Agibilità temporanea in deroga, il bando che assegni i terreni. Ma come hai fatto? Ho speso 326 euro. Di mazzetta? Ma è pochissimo. Di marca da bollo. Vengo a stare in cooperativa con voi. Cazzo però quando sudate voi del governo. Ma noi facciamo biologico. Facciamo biologico, ma è un modo di dire. Così vede. Dove tagliare? Do, 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 do e do. Dacci un criterio, una chiave concettuale. Ma voi siete tipo marito e moglie. Chi è che... Chi non sape fare un cazzo? Tutto è toccato. Ma questa non manda la mafia, dobbiamo reagire. No, questa la manda il mio cugino. Dobbiamo sparare. Avremo il primo stipendio. E lo Stato ci rimanda come vicino il boss al quale abbiamo portato via la terra. Buongiorno. Nicola Sanzone. Sanzone è come un lupo. La paura lui la sente. Il casale! Brucia il casale! Guardate il casale!